Bisogna votare Forza Italia, bisogna votare Marcello Lanotte, bisogna votare Raffaele Fitto perché dopo 15 anni di disastri della sinistra in ambito sanitario, ambientale, dell'agricoltura, delle attività produttive, della formazione professionale, occorre cambiare l'area. Occorre cambiare l'area con proposte innovative, occorre cambiare l'area per eliminare i 300 milioni di tasse in più che i pugliesi pagano, occorre dare risposte concrete e a farlo devono essere persone serie e competenti che hanno dimostrato già in passato di rappresentare la competenza associata alla conoscenza dei procedimenti amministrativi. Io credo che sia Raffaele Fitto e sia io abbiamo competenza e serietà che possiamo mettere al servizio del nostro territorio.